Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha sciolto la riserva, con la quale aveva accettato l'incarico e dalla sala stampa del Quirinale ha snocciolato la sua lista dei ministri. Dal ministro degli affari esteri della Comunicazione Internazionale Luigi Di Magro, dal ministro dell'Interno Luciana La Pugliese. E così via fino ai ministri senza portafoglio, giovedì alle 10 il giuramento del nuovo governo. Grazie.